Il mio profilo Il mio profilo Il mondo dei sogni Io stavo sognando Che cosa? Che stanno... Che cosa? Mi risponde, stavo dormendo Mi rispondono Mi rispondono Mi rispondono Mi rispondono Mi rispondono Ma bellezza Non mi riprendere che c'è un cibo Mi rispondono Mi rispondono Non mi riprendere Non c'è un cibo Non c'è un cibo L'indiana sa Non c'è un cibo Che ne vuoi dire? Niente Posso suggerire? Posso suggerire? Caro, fammi un'intervista Vengo direttamente dall'America C'è un club in Kenya Anche Non si è un cibo Non c'è un cibo Non c'è un cibo Non c'è un cibo Non c'è un cibo Che c'è un cibo Allò, qui c'è un cibo Qui viene a fare un cibo Vado a voi! Vado a vincere voi! Vado a 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 voi! Quando ha fiscato a Giaffaso? È uno, non me lo metto! Non lo so sottofondo! È il primo a destra, Giaffi, Io dietro lo puoi fare, signor.